Questo lavoro nasce durante la prima quarantena e tratta di due tematiche a me molto vicine e sentite, che sono la prima, quella della famiglia, perché in quel periodo mi sono messa a fare ricerca sul mio personale albero genealogico e la seconda tematica è quella della maschera. Sono la moglie, il marito e la suocera, che per me è la vecchietta e in lui si vedrà la maschera per eccellenza perché avrà addosso una maschera, mentre per loro saranno altre tipologie di maschere che sono più associate a un lato psicologico del personaggio. Abbiamo lavorato molto in sala e ho cercato di coinvolgere anche loro nel momento della creazione, nel senso che davo degli input o a livello fisico o a livello più psicologico della ricerca di questo personaggio e cercavo di osservare anche loro a seconda del loro vissuto e della loro esperienza che cosa mi potevano proporre, in che cosa mi potevano arricchire e anche che strada in realtà differente poteva prendere questo lavoro perché in parte ha preso una strada leggermente differente rispetto a quello che io inizialmente avevo pensato perché l'avevo provata su di me. Grazie a tutti! Grazie a tutti!